Outdoor Sport Day, siamo alla seconda edizione. Vi invitiamo quest'anno a Papasidero in questo spettacolare evento. Quest'anno ci saranno tantissime novità, con tantissimi nuovi sponsor, delle attività fantastiche da fare nella Valle del Fiume Lau a Papasidero, nel Parco Nazionale del Pollino. Rafting, quad, canyoning, aquatracking, trekking culturale, paintball, orienteering, parchi avventura, e-bike, trekking culturale all'interno del borgo per visitare la Madonna di Sala, il santuario di Costantinopoli e la Grotta del Romito. Tutto con un unico ticket a 35 euro. Vi aspettiamo quindi, non potete mancare, quest'anno abbiamo degli main sponsor importanti, con Decathlon, con la BCC di Verbicaro, con Mare Pulito, con Cal News, con Radio DGS, con tutte queste particolari iniziative che saranno create durante la giornata. Quindi vi aspettiamo con degli ospiti nella serata, dove ci sarà un meeting che si parlerà di turismo, sostenibilità e nuove iniziative progettuali. Quindi durante la giornata avremo la possibilità di ammirare spettacoli, artisti di strada e anche un'area podcast. Non potete mancare all'Outdoor Sport Day. Siamo alla seconda edizione e vi aspettiamo a Papasidero.